Un Paese Quasi Perfetto Un Paese Quasi Perfetto, stasera 11 ottobre su Rai 1. Trama e cast Un Paese Quasi Perfetto, il film inonda questa sera, 10 ottobre, su Rai 1. Questa sera su Rai 1, come ogni mercoledì, andrà in onda una pellicola cinematografica. Stasera sarà la volta del film Un Paese Quasi Perfetto. La pellicola è stata girata in Italia nel 2016 ed è stata scritta e diretta da Massimo Gaudioso. Un Paese Quasi Perfetto ha preso spunto da alcuni remache del passato, come quello del 2014 francese e quello canadese. La commedia vede recitare molti volti amati dal pubblico tra cui Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo Bucci Rosso, Nando Paone, Miriam Leone e Francesco De Vito. La storia in un Paese Quasi Perfetto è ambientata in Basilicata, precisamente in un piccolo paese che si trova vicino alle Dolomiti Lucane. Il parco naturale in cui sorge il paese è pietra mezzana. Qui vivono diversi ex minatori, ormai tutti quanti in cassa integrazione, a causa della chiusura della miniera. Quest'ultima era al comando dell'economia di tutto il paese. L'inizio del film non sembra proprio quello di una commedia, ma saranno poi i personaggi principali della pellicola ad intrattenere per tutta la durata il pubblico. Un paese quasi perfetto, trama del film inonda questa sera su Rai 1. Il sindaco di questo piccolo paese, formato da disoccupati, cerca di far aprire una fabbrica per ridar lavoro ai suoi concittadini, grazie ad un imprenditore del Nord. Il film Un paese quasi perfetto si basa sulla nascita di questa nuova fabbrica, che potrà vedere la luce solo se un medico accettasse di vivere nella cittadina, per la sicurezza di tutti. Il sindaco, dopo essersi trasferito a Pietra Mezzana, si è trovato a fare anche lausiliare del traffico. Insieme ad un ex minatore di nome Domenico Bonocore, riescono a fare affezionare un medico milanese, dal nome di Gianluca Terragni a venire a vivere nella concittadina. Nonostante tutto questo lavoro, la fabbrica non viene comunque più realizzata. Il direttore della banca, Nicola, si accorge che l'imprenditore del Nord era in realtà un truffatore. Non voleva costruire una fabbrica ma semplicemente accapararsi i soldi dell'Unione Europea. Nel paese non c'è quindi più bisogno di un medico. Quest'ultimo però aveva cominciato ad avere una certa simpatia per Anna, una giovane del posto. Per non andarsene pensa così ad un'idea, creare un centro di attrazione. La miniera, ormai da anni abbandonata, potrebbe diventare un centro benessere. Riuscirà l'idea del medico a realizzarsi? Lo scopriremo questa sera alle 21.25 su Rai 1 con un paese quasi perfetto. Riuscirà l'idea del medico a realizzarsi?